Le condizioni del campo di gioco sono buone. Un saluto a tutti i tifosi in ascolto dal vostro Gianni Pinoli. Oggi il commento tecnico è affidato a Sandro Manini. A te la linea, Sandro. Grazie Gianni. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Stiamo per assistere ad una partita di esibizione. L'incontro sta per iniziare. Ecco, cominciano con un'azione offensiva ben costruita. Rimessa laterale. Cerca spazio. Si apre il corridoio per il passaggio in avanti. La nickel. Go! 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 Davvero spettacolare. Bene, vediamo il replay. Guardate con che potenza riesce a colpire di te. Mantiene in possesso. Ce la mette tutta. Tiro. Rimessa laterale. Tiro. Rimessa laterale. E' già un po' di te. E' già un po' di te. E' già un po' di te. colpisce la palla da dentro e tira buono il controllo riesce a penetrare e tira tiro una giocata ha un momento il suo vantaggio bene vediamo il ripeto si gira su se stesso è finito il primo tempo ora durante l'intervallo sentiamo un commento sul primo tempo il risultato è 2 a zone conduce di due reti allora Sandro quali sono i tuoi giudizi su quello che abbiamo visto finora? io preferirei vederli più attivi sulle fasce laterali grazie mille Sandro ma vediamo ora cosa ci aspetta in questo secondo tempo ecco il calcio d'inizio del secondo tempo ecco il calcio d'inizio del secondo tempo rimessa del portiere rimessa dal fondo sono trascorsi 10 minuti dall'inizio della ripresa il fallo è evidente il portiere è dalla sua disposizione alla barriera deviazione della duchesa gol 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 conclusione magic il risultato è 2 a 1 è avanti di una rete bene vediamo il replay entra in scivolanza entra in scivolanza entra in scivolanza Ballano Buono il controllo E si dice qua Il coppiere dà le sue disposizioni la barriera Una riserva ha cominciato a scalgar su a bordo campo Stanno facendo un forte cross sul primo pallone Se solo riuscisse a passare la palla Si impossa sassa del pallone Li stanno marcando stretti Si, dovrebbero fare pressing anche sul portatore di pallone Colpo di testa Brutto pallone C'è un campo Il pallone è in possesso della palla Peccato, sarebbe stato un bel gol La palla è alta Buon possesso di ballo E tira Il calcio d'anno A meno che sono da due Passaggio all'inghiore Si impossa sassa del pallone Troppo presto Peccato però Era un bel scatto Manda la palla Manda la palla al centro L'arbitro ha appena fischiato la fine della partita Riesce a vincere un incontro davvero difficile Allora Sandro, quali sono le tue impressioni sulla partita? Mi è sembrato un incontro vincente Davvero molto spettacolare Ok Sandro, grazie per il tuo commento tecnico Purtroppo è arrivato il momento di salutarsi Arrivederci dal vostro Gianni Pinotti Come sempre il commento era affidato al nostro Sandro Manini Grazie Sandro È stato un piacere Gianni Bene, arrivederci a tutti gli amici sportivi in ascolto Ciao